Beh, se sono un libraio e frequento un corso professionalizzante devo assolutamente essere il maggiore esperto di picture book che ci sia nella mia città, che ci sia nel mio quartiere, che ci sia nel mio territorio. Perché? Perché creo lettori e quindi per un libraio è importantissimo perché poi c'è il futuro, perché il picture book è il prodotto più importante di questo momento per la letteratura per ragazzi, perché c'è un consumo di questo prodotto incredibile perché tutti stanno facendo picture book, quindi una ragione fondante c'è perché le scuole, gli educatori sembrano avere finalmente capito questo quindi un libraio non può essere meno del pubblico, deve essere più del pubblico. Grazie 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 Grazie